Peperone quadrato della motta di Costigliole d'Asti e di fianco a me c'è il primo cittadino di Costigliole, Enrico Cavallero, per raccontare un nuovo presidio Slow Food e il bello dei presidi Slow Food è che il peperone, in questo caso il prodotto, è strettamente legato al territorio, quindi i nomi del peperone e i nomi di Costigliole sono collegati. Assolutamente, Costigliole è un territorio unico e se le nostre colline ci danno degli ottimi vini, scendiamo poi nella Valle Tanaro dove troviamo le condizioni organoletiche del terreno ideale per far crescere questo peperone. Questo peperone dai nostri produttori e orticoltori credo che ci dia delle grosse soddisfazioni, noi come amministrazione li sopporteremo, come Slow Food e la Regione Piemonte. Sono convinto che potremmo aprire una nuova pagina, una nuova stagione per questo peperone conosciuto e apprezzato in ogni dove. E poi c'è l'assessore all'agricoltura, Alessandro Borio. Innanzitutto siamo in un posto splendido che è il Castello di Costigliole, che fa parte del panorama, del paesaggio di queste terre. E poi ci sono tutta una serie di progetti. Qui accanto c'è Licef, che è una scuola di altissima cucina, quindi insomma, molte cose da imparare. Sì, noi un po' più di un anno fa, sempre qui nel Castello, abbiamo presentato l'associazione di produttori Noi di Costigliole. Dunque abbiamo fatto il compleanno da poco di questa creazione, di questa nuova associazione. Tra l'altro a novembre, dal 4 all'8 di novembre, ci sarà un'altra grande manifestazione che è a Rosso Barbera e che verrà fatta proprio in queste sale del Castello. Il peperone quadrato della Motta, sì, ci abbiamo creduto subito di partenza. Ci sono stati Stefano Scavino, altri piccoli produttori della Motta che hanno creduto in questa cosa. Ci siamo confrontati a tavola e tutto. Con l'aiuto di Carlin Petrini e Slow Food, siamo arrivati a avere questo nuovo presidio del peperone quadrato della Motta. Peperone quadrato della Motta di Costigliole d'Asti. Quindi nuovo presidio Slow Food, ma quali sono le caratteristiche specifiche di questo peperone? Allora, questo peperone è quadrato perché la sua forma è cubica, quindi è un peperone di medie dimensioni, in rapporto uno a uno tra altezza e larghezza, dalla polpa molto carnosa. Ed è una cultura molto antica che purtroppo era quasi perduta in questo territorio, perché è una pianta difficile, perché mancavano generazionalmente aziende nuove che volessero impegnarsi in questo. Adesso, con questo percorso che per quanto mi riguarda è iniziato nel 2015, abbiamo voluto dare un impulso a rigenerare questa microproduzione e siamo partiti da questa varietà locale che ha molte potenzialità.